Eccoci qua, bella a tutti dal vostro Gabomen, siamo tornati su PES 2016, oggi non abbiamo tanti GP a disposizione per fargli spacchettamenti, ma ho ben 26 osservatori, quindi ci facciamo più di qualche spacchettata e speriamo di becca qualche pallone nero. Se comincia immediatamente, allora sotto i 24 anni proprio subito questo me lo spupazzo seduta stante, richiediamo, vediamo qual è la prima pescata del giorno, come al solito un pallone oro, un pallone nero, io spero che mi capiti almeno l'oro, ma niente da fa', la prima pescata è un pallone de bronzo. Vediamo un po' chi è, è, come cazzo si chiama questo? Shang-Goon, una schifezza, coreano Suwon Samsung, 21 anni, 1,74, praticamente c'ha solo un pizzico di velocità e niente di più. Ok, questo lo mandiamo subito avanti, non è proprio degno di nota, quindi si aggiunge membri my club, seconda pescata del giorno. Vediamo un po', campionato inglese, 25, 29 anni e controllo palla, questo me lo spupazzo così, seconda pescata del giorno, vediamo che ci esce fuori, tagli un po'. Allora, qua i palloni neri, nonostante io combino gli agenti, sono sempre uno nero e uno oro, non ho capito per quale motivo, lo scorso anno perlomeno se facevamo così c'erano più palloni oro. Ok, perfetto, questo è pallone argento, è Avalos, paraguayano, sicuramente è meglio di quello che abbiamo pescato poco fa, fa la punta, fa l'esterno d'attacco, fa la seconda punta e all'occorrezza fa pure il CLD. Paraguayano è MN, yellow orange, 25 anni, 1,80, c'ha fisico, c'ha velocità, c'ha dribbling e pecca un pochino nel tiro, il che non è buono perché comunque è un attaccante e dovrebbe buttarla dentro. Bene, allora, velocità, questo me lo spupazzo da solo, terza pescata del giorno, questo potrebbe essere Gervigno, vi ricordo che non ho ancora mai pescato un pallone nero con gli osservatori, quindi prima o poi a forza di pesca dovrà capitare, non è questo il caso però. Bene, pallone de bronzo, chi sei? Eh, mazza e cazzo dei nomi oggi, oh, Hout Koukup, perfetto, ok, pure questo parecchio veloce ma per il resto niente, de che, olandese, Kambur, Leuwarden, 26 anni, 1,75. De Bono c'ha la velocità e la potenza di rompente, come avete potuto notare dall'esagono e poi si vede pure dalle abilità chiave, però va bene così, si aggiunge a membri my club e andiamo avanti. Piede destro e pedalare, vediamo che ci esce fuori, si richiede quarta pescata del giorno, forza così, io schiaccio sul nero, oh, fosse la volta buona, eh, cala, fosse la volta buona, pallone d'argento. Il classico argentone, vediamo chi è, è Mercado, che non è malaccio, 65, argentino, river plate, 28 anni, 1,81, DC, TD, CLD, perfetto, c'ha parecchio fisico, vediamo se ce lo conferma dalle abilità chiave, ma non mi sembra, va bene così, aggiungiamo pure lui ai membri my club, andiamo velocemente con la quinta pescata del giorno, vediamo un po', passaggio lungo. Poi voglio combinare, come avete notato, quest'anno non è che si possono combinare tutti gli agenti, si possono combinare solo alcuni, quindi facciamo così, perché mi sa che più di così non possiamo combinare, richiediamo, che è la quinta pescata del giorno, se non mi sbaglio, penso di sì, ingaggiati 100 giocatori in totale, addirittura ragazzi, si vede che me ce sto a divertire, eh, forza, e questo va sul nero, dai, devo assolutamente festeggiare con un nero, è oro, va bene uguale, dai, ci accontentiamo, chi è questo? Oddio, vediamo un po', chi cazzo è questo? Madonna, Leo Baptistao, brasiliano Villareal, fa schifo praticamente, pallone oro con 67 di VGG. Vi ricordo, per chi non lo sapesse, che quest'anno PES ha introdotto gli allenamenti, quindi i giocatori con le partite acquisiscono esperienza e, di conseguenza, crescono le valutazioni generale. Questo, essendo un pallone oro, può arrivare fino a 79 di VGG, mo' faccio a capire quello che può diventare questo con gli allenamenti, vabbè. Non ci interessa, se aggiunge ai membri MyClub, c'ha abilità offensiva 76, quindi una schifezza, vabbè. Pensavo meglio come pallone oro, ma così non è stato, andiamo col contropiede, se richiede, andiamo avanti, sesta pescata del giorno, oggi ce ne famo una decina, forse pure undici, eh. Dai, schiaccio in questo momento, ma dai un nero, mamma mia, manca a pagarlo oro, e che cazzo? Che tirchi, guarda, addirittura bianco, non te lo chiedo più, allora il pallone nero, chi è questo? È G. Tadeu Junior, mamma mia, brasiliano Persepolis, 29 anni, 1,89, se può guardare, scusate, lo manda avanti proprio alla velocità della luce. Ci facciamo la settima pescata del giorno, però, allora, vediamo un po', che possiamo fare, passaggio corto, dai, in tre stellette, e vediamo che succede, settima pescata del giorno, me sembra di sì, dai, allora, io voglio un pallone nero pescato con gli agenti free, forza, fermete sul nero. Edda, no, così, porca puttana, c'è mancato poco, eh. Chi è questo? Mamma, ma che cazzo di nome è? Balgait. Fa schifo, no, oddio, fa schifo, no. Ragazzi, questo è veloce, non c'ha molta difesa, non c'ha molto fisico, non c'ha per niente il tiro, però, guardate la velocità, gioca nella Lali, Arabia Saudita, 28 anni, 1,81. Questo fa novellini, è oro colato, sia nel primo o nel secondo tempo, eh, questo se si fa giocare, corre, insomma. Ma la fascia se la fa tutta, velocità, 77, elevazione, 77, perfetto, ok? Abbonato al 77, facciamoci l'ottava pescata del giorno alla cazzo de cane, come de consueto, e vediamo chi ci esce fuori, io non si sa mai. Io ci continuo a provare, cioè, ho ingaggiato più dei 100 giocatori, quindi io spero che prima o poi, con agente di questi, ci possa... C'è un pallone nero, porca puttana, vabbè, eh, oro, ci stiamo a lamentare, ma è un'altra bella pescatozza, forza un po'. Chi è? Ma, ma chi cazzo? Oh mio, ma che, ma che cazzo c'è sta scrivendo? Arrua Barrena! Ok, perfetto, spagnolo e i bar, io non li riesco a nominare oggi, no? O c'ho problemi io, non lo so, li leggo male, boh, se è un gioco di parole, ma che è un coso? Non sciogli lingua. 32 anni, 1,88, questo però è parecchio fisico, c'ha parecchio tiro, ha abbastanza velocità, il dribbling non ce l'ha per niente, però è una punta di sfondamento, quindi questo è il classico sventrapapere, di conseguenza col dribbling necce te fa chissà che. Ok, 78 equilibrio, 76 colpo di testa, andiamo avanti perché c'ho fretta di pescare un pallone nero, io ce provo con modulo fisso, non ha pescata del giorno, se richiede. Vediamo chi ci esce fuori, taglie. Girano le palle, schiaccio le palle, detto così è brutto, schiaccio le palle, girano le palle e è bronzo. Mamma mia che schifezza, vediamo chi è, è un portiere però eh, è Leroy, francese Vianto Nongaillard, 31 anni, 1,85, non è malaccio comunque, dai per essere un bronzaccio. È un giocatore di tutto rispetto, tranne il tiro che non ce l'ha, però non ce ne frega niente, aggiungiamo i membri MyClub 78-75, portiere d'elevazione, decima pescata del giorno. Modulo fisso, taglie così, forza, seduta stante, se richiede, penultima pescata del giorno, io sto ancora a aspettare sto cazzarola di pallone nero, o comunque arrivati a sto punto mi accontenterei pure del terzo oro della giornata eh, non è che ci fa schifo eh. Ecco, bene, bianco, perfetto, ho detto non lo devo più dire perché ogni volta che lo dico esce la schifezza. Questo è Amadio, Samadio, perfetto, italiano, AB White Red, che cazzo di squadra è, che è il Cagliari? Boh, mi ricordo, mi sa di sì, o no? Boh, vabbè, non lo so, 26 anni, collante, 1,76, vista lo stile del gioco, non sarebbe manco male, però purtroppo è solo un 55, pallone bianco, non è che ci fanno tutto sto cranché. Se aggiungi ai membri MyClub, ce facciamo l'ultima pescata del giorno, vediamo se si può mischia qualcosetta eh. Eh, no, con questo non si può mischia niente, qua tocca andare pure per tentativi eh, no, non si può, non si può fare niente? Oh, vabbè, ho capito, va, fammone una a casaccio perché tanto qua de' meglio non lo troviamo. Area di contenimento centro, però lo faccio da 4 stelle, richiedemo, ultima pescata del giorno, vediamo chi ci esce fuori, forza, la speranza è l'ultima, morì può essere, pure che mo' becco un cavolo di pallone nero eh. A rigira, da, ma pure l'oro mi va bene, ecco, perfetto, no, no, proprio, cioè, mi devo stare, doppio portiere, perfetto. Urra puro? Mamma mia, che cazzarola di nome, Argentinos, SJ, Green, Black, 24 anni, vabbè, niente di che. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, e non mi resta che dà appuntamento alla prossima con un nuovo spacchettamento, vi saluto, regà, bella a tutti dal vostro Gabwoman, ciao!